Siamo a Piazza Peppino Impastato Siamo felici tutti di essere qui e di essere arrivati a questo punto, io voglio solo dire grazie a tutti quelli che in questi anni hanno fatto in modo che se ne parlasse e si arrivasse a questo, al di là di tutte le polemiche, al di là di tutto quello che è stato detto come contorno, io mi sento veramente più leggero oggi, sono felice di dirlo a voi, di dirlo qui e basta, ora ci divertiremo che si suona stasera, suona dopo un bel po' di tempo ed è soltanto l'inizio, questo è una cosa importante da dire, questo è solo l'inizio, io posso dire che concretamente ci sono dei progetti su questa piazza, su questa giornata, su Peppino, sono già state scritte delle cose per il futuro e sono felice pure di questo e basta, tutto qui.